Sabato 16 da Mare Sport in Via Novaro 11 a Diano Marina inizia una grande liquidazione per rinnovo locali. Sconto dal 50 al 70% su abbigliamento di grandi marchi. Museum, CS, Fred Mello, Gaudì, BEAR, DEA, Napapiri, New Balance, OCA, DVS e altre ancora. Approfittate di questa opportunità e ricordate da Sabato 16 Mare Sport a Diano Marina in Via Novaro 11. Vi aspettiamo!